Il bando antimigranti di Trump ha inferto un colpo ai viaggi verso gli Stati Uniti non soltanto dai paesi musulmani. Fra il 28 gennaio e il 4 febbraio le prenotazioni da Iran, Iraq, Somalia, Libia, Siria, Sudan e Yemen sono diminuite dell'80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Quelle dal Medio Oriente del 37,5%, quelle da tutto il mondo del 6,5%. Quando il decreto del presidente statunitense è stato sospeso, le prenotazioni dall'Iran sono quintuplicate. La misura di Trump rischia di danneggiare un settore che, come sottolinea un manager, è in continua espansione. Un miliardo e 400 milioni di persone viaggiano ogni anno, c'è un aumento del 5% annuo perché il costo dei viaggi oggi si è ridotto di un terzo rispetto a dieci anni fa. Ci sono le compagnie low cost, c'è più concorrenza nel settore dell'accoglienza, ci sono Airbnb, Booking.com, si possono confrontare i prezzi. Gli Stati Uniti restano il secondo paese più visitato al mondo, con quasi 78 milioni di arrivi nel 2015 e sono al primo posto per entrate derivanti dal turismo, circa 191 miliardi di euro.